Hanno vent'anni. Ho finito il liceo e posso finalmente essere libera di uscire tutte le sere. Sono pigri. Non ho mai lavorato un giorno della mia vita. E viziati. Mi chiamano il baronetto o il beatore. Dall'inverno italiano sono pronti a raggiungermi in Messico, nell'incantevole Riviera Maya. E sono convinti di vivere una delle avventure più belle che abbiano mai vissuto. Quando sono in vacanza io sono una bomba pronta a esplodere. Una vacanza indimenticabile dove poter fare quello che hanno sempre fatto. Se c'è da far festa non mi batte nessuno. Peccato che dopo un solo giorno il sogno lascerà il posto alla dura realtà. Oddio. Che ansia. Scopriranno che la vacanza non è gratuita. Eh? Dovranno guadagnarsela nella maniera più ovvia ma sconosciuta per loro. Non ho capito. Lavorando.